Ultimo aggiornamento di oggi con Moversi in Toscana, in studio ancora Mauro Ciutini. Un incidente in A1 tra Firenze Sud e in Cisare Gello, la direzione è quella per Roma. Sulla Firenze Pisa Livorno, code allo svincolo di la Strassigna in uscita provenendo da Firenze. Sulla statale 1 via Aurelia, chiusa una corsia per un veicolo in avaria prima dello svincolo di Follonica Nord in direzione Ponte San Luigi. Traffico ancora intenso in A11 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze in Pruneta in direzione Roma. E c'è traffico intenso anche sui viali a Firenze, via Guido Monaco, via Le Redi, via Le Belfiore, via Le Milton, via Le Strozzi, via Le Fratelli, Rosselli. Per chi viaggia domani sabato in Toscana il tempo sarà generalmente nuvoloso con schiarite sulla costa centro-meridionale, in particolare nel pomeriggio. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio sull'Appennino. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Comune di Firenze, a domani.